Si chiama Revive, la linea di poltrone intelligenti ideata da Pasquale Natuzzi e presentata in pieno centro a Milano nel negozio di Via Durini. Revive, disponibile nelle due versioni Queen e King, è il frutto di un nuovo ed esclusivo sistema che consente di regolare automaticamente la posizione della poltrona adattandola alla conformazione del corpo e al gradimento del cliente. Ed è su questa nuova linea che Natuzzi conta di rilanciarsi sul mercato. Revive significa rinascere, significa rivivere, è l'impegno che abbiamo profuso nella progettazione di Revive che ha richiesto 30 mesi di lavoro, 124 componenti meccanici, l'utilizzo di materiali innovativi, due brevetti a livello mondiale. Il miracolo di questa poltrona è che per la prima volta nella storia la poltrona si adatta al movimento del corpo umano. Abbiamo anche fatto il lancio a Bruxelles il 3 novembre e poi ancora il 15 novembre a Parigi dove abbiamo vinto il primo premio come trofeo per l'innovazione. Quindi sicuramente Revive, indipendentemente dai problemi della concorrenza sleale che noi viviamo nel nostro territorio e del quale tanto si è parlato in questi ultimi giorni e anni, noi sicuramente potremo conquistare quote di mercato e dare maggiore speranza ai nostri operai e al nostro territorio.